su quel servizio. Lindsay, il notiziario dei ragazzi andrà in onda tra sei minuti. Il signor Newberry se la prenderà con me, come a sciolico. Non ti preoccupare per questo. Vorrà dire che me la vedrò io con piedino di fata. Signor Newberry, salve. Il suo primo servizio per il notiziario dei ragazzi è in ritardo. Non è in ritardo, signore. Cominceremo a trasmettere tra quattro minuti e diciotto secondi. Bene, dovrò impiegare solo quattro minuti e tre secondi se lavoro ogni secondo. Dobbiamo tagliare questo servizio. Il signor Newberry non è d'accordo. Dice che è troppo controverso. Ecco fatto, ho finito. Lo vedrò direttamente dopo la messa in onda, signorina. È evidente che lei ha ancora molto da imparare riguardo alle responsabilità che deve avere un giornalista. Ci vediamo dopo, signor Newberry. Dai, vieni con me, questo è il tuo lavoro. Grazie, Brandon. Scusa per il ritardo.